L'idea del film è stata quella di fare una storia su degli adolescenti in una scuola però raccontata come se fosse Shining, come se fossimo nel set di un film dell'orrore perché secondo me quando si ha 16 o 7 anni si comincia ad avere come dire il proprio rapporto con i propri fantasmi, i propri incubi, le proprie angosce, una cosa è dirle, una cosa è vederle. Al cinema c'è la possibilità di metterle in scena, di visualizzarle, questo può dare anche un impatto anche molto più immediato e quindi un po' la scommessa è stata quella dicendo di solito i ragazzi sono sempre trattati o con cose abbastanza realistiche che raccontano la scuola, i dialetti, il liceo, la località, invece questa scuola è una scuola che potrebbe essere in Italia come in Svizzera, come in Germania e dove però i ragazzi vedono i loro mostri e quindi un film dell'orrore. Quando avevo 16 anni come dire è il primo momento in cui mi sono sentito da solo a dover sopravvivere a un certo contesto e nella mia visione da adolescente ho capito che è un contesto un po' prendendolo un po' in bianco e nero dove un po' o sopravvivi o sei fuori, cioè un mondo molto esclusivo in certi versi o comunque l'ho sempre percepito così e quindi l'idea iniziale proprio era cercare anche di sfocare facendo un film questo sentimento come dire che penso che a 16 anni è anche facile provare. Dall'altro punto di vista dell'Italia adesso non lo so, magari non voglio fare come dire non sono un sociologo, non sono un economista eccetera, però quello che credo è che la tendenza sia sempre quella più rivolta verso l'egoismo, dove comunque il valore dominante è quello del successo del singolo, della singola persona anche a costo di distruggere un sistema. E quindi questa ora qua c'è secondo me nel film, fa parte del percorso del protagonista, fa parte della mission di questo collegio in cui è stato mandato e fa parte della volontà dei genitori che ce l'hanno mandato. Quindi per voler riassumere il film un po' incarna quest'idea sbagli politica. C'è chi dice che sia una deformazione nel senso che un protagonista entra in un posto perché ha fatto una gretinata e esce che è una persona potenzialmente pericolosa e in questo sta la sua formazione, la sua vittoria come eroe di una storia. E questa cosa qua almeno per me era fondamentale perché rovesciando un po' il tipico schemino di qualsiasi storia, di qualsiasi narrazione, era interessante pensarlo per un ragazzo di 16 anni del 2016, secondo me. C'è molta musica, tra l'altro in parte l'ho composta io da solo, intanto con l'aiuto anche di Leonardo Rosi che è un compositore toscano che viene un po' dalla scena dance degli anni 90, perché c'è un club nel film che quindi ha questa visione un po' pop, un po' buia, no? E dall'altra parte proprio la musica era cercare di dare proprio un tono da film horror, dico di serie B, nel senso che poi i film horror fatti con la musica elettronica nascevano perché erano i film che si facevano con pochi soldi, anche questo è un film fatto con pochi soldi e mi piaceva però ritornare in quell'ottica, se vuoi, un po' di controcultura degli anni 70 come si faceva in America. Voleva essere un film contro questo qua in qualche modo, un po' di rottura, però non so se ci sono riuscito, però l'impulso, ed è quello adesso che sono di fronte a voi che siete così giovani, è provare a iniziare, no? A fare una cosa, a prendere di petto delle cose, non fai mai sbagliando, si rischia poi di diventare presuntuosi, però almeno c'è una proposta. La proposta è quella di prendere di petto una società dove un sericenne vincente appunto è una persona che può anche commettere un delitto, passare impunito e tornare a casa come se non fosse successo niente, penso che può succedere nel mondo degli adolescenti che questo avvenga e venga anche in qualche modo digerito abbastanza facilmente. Ed è una cosa abbastanza, come dire, clamorosa, no? Questo film che in qualche modo dove gli adulti non esistono, l'unico adulto è Fabrizio Longione che è un attore, non so se lo conoscete, che ha fatto tutti i film dei fratelli D'Arden, però diciamo che in Italia è un volto abbastanza inedito e per il resto è composto da un cast di giovanissimi che abbiamo cercato tra più di mille ragazzi e con cui ho lavorato poi diciamo per 4-5 mesi intensivi e soprattutto è stato bello trasferirci di fatto in un posto isolato che è quello che vedete nel film e vivere proprio un'esperienza di esclusione dal mondo di un paio di mesi e mezzo e questo secondo me è stata una delle parti centrali per mettere anche questi ragazzi, a parte nello giusto spazio di concentrazione ma anche per farli veramente fisicamente sentire lontane da casa, dai genitori eccetera eccetera, che era la condizione centrale dell'inizio del film diciamo su cui comincia la storia. Riccardo, visto che è un film diciamo anche molto drammatico, molto cupo, molto duro hanno detto pure i giornali, non mandava che fare un film sugli adolescenti che fosse solamente un film cupo, perché secondo me l'adolescenza non si merita, come dire, di avere soltanto questa prospettiera, di essere schiacciata dentro questa prospettiera e quindi nella mia immaginazione mi serviva, volevo una scena di rottura però dove questa vitalità potesse esplodere e quindi ho detto sarebbe bello, i miei produttori si sono subito spaventati, sarebbe bello fare un momento diciamo da musical, infatti poi quella musica ci porta un po' anche in uno stile, in un modo di fare cinema che si fa quello della Hollywood, della golden era e quindi c'era proprio già la sceneggiatura, c'era questa canzone, vivere, che fa un po' contrasto con tutto il resto del film e c'era quest'idea che dovesse cantare con la pistola in mano perché lui aveva, come tutti gli altri ragazzi subito la decisione dei genitori di essere mandato in collegio perché c'erano dei problemi relativi alla sua famiglia che aveva contatti con la criminalità e quindi mi piaceva perché in qualche modo non è che sai si usciva dal film per andare sulla camorra, su queste cose qua, però si rimaneva in tema perché tutti quanti sono un po' vittime delle scelte dei genitori, ognuno per i suoi motivi e quindi ho deciso, lui canta, c'è un personaggio che ce la fa, c'è un personaggio che non è come gli altri, dare un'alternativa anche, se no si rischia sempre di essere un po' piatti, un po' faziosi, non volevo che il film, spero, comunque ho cercato di dare un elemento in più e quando l'abbiamo girata, devo dire che Luigi Bignone che è l'attore che fa questo ruolo si è proposto da solo perché noi avevo messo un'inserzione nel napoletano diciamo e cercavamo un ragazzo di Napoli che sapesse cantare e lui si è mandato un video dove suonava la chitarra ed è stata la prima cosa che ho visto e è stato praticamente scelto immediatamente, è stato uno dei primi a essere preso perché aveva quel candore e soprattutto non aveva l'apparenza del criminale, ecco non volevo che questo personaggio avesse una connotazione diciamo gomorresca e quindi per me è stata una scelta molto felice, è stato facile, gli altri sono stati anche più complicati da trovare, è un film che parla di solitudine, che parla di paura e che parla del futuro. Grazie a tutti!